Nel paese coi baffi, ognuno vive secondo le proprie inclinazioni. Per esempio, Spilla, il barista. Talmente appassionato di spillatura, da vivere a 45 gradi. È questa attenzione, insieme a tutte le piccole altre, a fare grande birra Moretti. Fidatevi di questa dritta. Birra Moretti, una storia italiana. Fidatevi di questa dritta.